Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo e bentornati sul mio canale in cui vi racconto le mie ricerche ed esperienze per aiutarvi ad organizzare i vostri personali viaggi fai da te. Oggi parliamo di un luogo di cui mi sono innamorato quando ero piccolino, che ho già visitato due volte e nel quale tornerò sicuramente tante altre. L'Egitto. In questo video vi racconto le principali cose da sapere per affrontare un viaggio nella terra dei faraoni. Ci tengo a precisare che qui non parlerò in nessun modo di Sharm el Sheikh o Marsalam, ma di come visitare i luoghi più significativi della millenaria cultura nata e sbocciata lungo le rive del Nilo. Prima di iniziare, se sei anche tu appassionato di viaggi e stai pensando al prossimo, magari qui puoi trovare qualche suggerimento utile. Ti invito pertanto ad iscriverti al canale YouTube ed attivare le notifiche per non perderti nulla. Ora sigla e iniziamo! L'Egitto si può considerare un paese molto economico, soprattutto se decidete di alloggiare e mangiare nei rispettivi hotel e ristoranti locali. Potete tranquillamente affrontare un pasto con 4-5 euro e alloggiare in una camera con 25-30 euro a notte. Poi ovviamente dipende dal vostro grado di adattamento. Infatti negli hotel internazionali più lussuosi potete spendere anche 100 e più euro a notte. Un'usanza estremamente comune è quella delle mance. Vi consiglio pertanto di munirvi di banconote di piccolo taglio e di monete. La moneta locale è la sterlina egiziana, che al cambio attuale vale circa 5 centesimi di euro. Serviranno pertanto circa 20 sterline per fare un euro. Tuttavia in diversi luoghi l'euro è accettato e addirittura preferito alla stessa sterlina egiziana. I costi dei principali siti archeologici del paese variano molto, ma si può dire che siano molto abbordabili. Per esempio nella Piana di Ghizza il costo di ingresso è di circa 10 euro a persona. Spesso però all'interno dovrete pagare degli extra. Per esempio nella Valle dei Re molte tombe, tra cui quella dello stesso Tutankamon, non sono incluse nel biglietto. E mi consiglio di visitarne una per farvi un'idea delle meraviglie che stanno là sotto. E poi, se vi piace, potete acquistare biglietti per le altre. Infine per fare video o fotografie all'interno è obbligatorio fare un ticket extra. Esistono diverse compagnie egiziane ed economiche che partono dai più svariati aeroporti italiani e arrivano all'aeroporto internazionale del Cairo. Tra queste Almasria, Air Arabia e Air Cairo. Un volo andata e ritorno può costare tra i 3 e i 400 euro, poi chiaramente dipende dalla stagionalità, e una tratta dura dalle 3 alle 4 ore. Egypt Air e la nostra Ita Airways sono invece le compagnie di bandiera, che partono e arrivano dai principali aeroporti italiani e generalmente costano un pochino di più. L'Egitto è la terra dei faraoni, sulla di una delle civiltà più antiche della storia, e che hanno contribuito allo sviluppo della cultura mediterranea e non solo. L'eredità di questo regno millenario sono le grandiose piramidi, circa 130 d'oggi, i palazzi, i meravigliosi templi, la complessità e la ricerca delle arti e delle scienze in tutti i loro aspetti. L'Egitto è uno dei pochi paesi arabi in cui l'ingobrante eredità del passato viaggia di pari passo con la religione islamica, la sua cultura e le sue abitudini. Queste due facce della stessa medaglia vivono in una sorta di complementarietà sospesa tra il passato e il presente. L'Egitto è infine anche la culla del cristianesimo copto. Si può dire quindi che sia un paese in cui coesistono e hanno imparato a convivere diverse realtà culturali, che come spesso accade si sono contaminate ed arricchite. Non si può capire l'Egitto se non si capisce il Nilo. È formato da due grandi rami, il Nilo Bianco che nasce a sud, alcuni dicono dal lago Vittoria, altri lo riconducono al Burundi e a Rwanda, e il Nilo Azzurro che nasce in Etiopia. I due rami si incontrano poi in Sudan e proseguono nel grande corso che tutti noi conosciamo. Attraverso appunto Sudan ed Egitto per sfociare poi nel mar Mediterraneo. Il Nilo è il motivo per cui un luogo così desertico come l'Egitto è uno dei paesi più popolosi d'Africa. E le sue acque sono state e sono tuttora una risorsa fondamentale per la vita, l'agricoltura e l'economia del paese. Negli anni Sessanta è infatti stata ultimata la realizzazione della diga di Aswan, che ha permesso all'Egitto di trasformarsi in un'economia moderna. Portate con voi il cappello e la frusta da Indiana Jones. In Egitto si respira storia, mistero e avventura. Le visite ai siti archeologici, alle tombe, alle piramidi, sono vere e proprie immersioni emotive. Realizzate alcune volte in spazi angusti, altre addirittura claustrofobici. Ripagate però dalla meraviglia incredulità di trovarsi davanti a questi colossi di 4-5 mila anni. I siti da non perdere, oltre ai più famosi Piana di Ghizza, Valle dei Re, Tempi di Karnak e Luxor e Abu Simbel, sono i tempi di Edfu, Phile, Konombo, la piramide di Djoser, la piramide rossa e potrei andare avanti ancora tantissimo. Mi raccomando, prima di partire, leggete ed informatevi sulla miriade di siti, perché, credetemi, anche il più sconosciuto vale davvero la visita. Altre attività che potete fare sono le classiche escursioni nel deserto in quad o in 4x4, fino a raggiungere anche delle oasi. Una delle più importanti è l'oasi di Siwa, che è situata vicino al confine libico. Ad Aswan vi consiglio di godervi un magnifico tramonto sul Nilo, a bordo di una feluca, che è la classica barca a velo egiziana. Lì vicino potete anche visitare il villaggio nubiano di Gara Soheil. Al Cairo non potete perdere le moschee di Mohammed Ali e di Al-Azhar, un giro tra i cunicoli e le chiese del quartiere Copto, per poi perdervi nel mercato più importante della città, quello di Canel Kalili. Prendetevi poi mezza giornata per visitare il Museo Egizio del Cairo, che seppure si è tenuto piuttosto male, trassuda di storia dell'archeologia e conserva la più grande scoperta archeologica di sempre. Il corredo funerario di Tutankhamon, compreso dei suoi sarcofagi e della famosissima maschera d'oro. Tra poco verrà ultimato il nuovissimo e modernissimo museo che sarà dedicato alla vita e ai reperti della tomba del faraone. Prima di partire informatevi a che punto sono i lavori, perché potreste essere tra i primi a visitarlo. Fatta premessa che i luoghi più interessanti e arricchi di cultura dell'Egitto si sviluppano lungo le rive del Nilo, a mio parere proprio navigando lungo il fiume è il modo migliore per godersi questo tipo di viaggio. Ma andiamo con ordine. Di solito il viaggio inizia e si conclude al Cairo. Dall'aeroporto e per gli spostamenti all'interno della città, che peraltro vi consiglio di ridurre al minimo perché considerate che il Cairo ha circa 20 milioni di abitanti, il mio personale consiglio è di utilizzare Uber perché sapete esattamente quanto andrete a spendere e non perderete tempo in inutili contrattazioni con i tessisti locali. Inoltre una corsa costa davvero pochissimo, con 4-5 euro riuscite a spostarvi da un punto all'altro della città. Per muovervi internamente tra il Cairo e Luxor avete sostanzialmente due modi, il volo aereo o il treno. Nel mio primo viaggio in Egitto ho passato la notte in una cucetta in un magnifico treno egiziano. Un po' fatiscente ma molto pulito e devo dire che ho dormito molto bene. Da Luxor poi il mio consiglio è di imbarcarvi per una crociera in direzione a Swan. La crociera è il modo migliore per godersi e visitare tutti i siti archeologici che sono sparsi lungo le rivide del Mielo, arrivando sempre riposati e avendo anche la possibilità di osservare dall'acqua la vita lungo le sponde del fiume. Su internet potete prenotare le crociere e numerosi tour. Da Swan partono pulmini organizzati per raggiungere Abu Simbel, nel sud del paese, per chi cerca tour in italiano ho trovato molto utile il sito www.scopriegitto.com vi lascio il link qui in descrizione. Per concludere se volete visitare anche Alessandra d'Egitto che si trova nel nord del paese, potete volare dal Cairo o anche dalle altre città egiziane, ma i voli fanno comunque scalo al Cairo. I periodi migliori per visitare l'Egitto sono sicuramente la primavera o l'autunno, ovvero quei periodi in cui potete godervi il caldo del giorno e delle serate miti. Sconsigliato ovviamente durante l'estate perché in alcuni punti si raggiungono tranquillamente i 50 gradi. L'inverno è un buon periodo, soprattutto di giorno, tuttavia la sera le temperature scendono molto, quindi bisogna coprirsi perché fa abbastanza freddo. Quest'anno per esempio in alcuni punti del paese ha nevicato nel periodo di Capodanno. Come sempre dipende dal tipo di viaggio che volete fare. Per un discreto servizio mi consiglio di non andare sotto gli hotel tre stelle. Al Cairo è fondamentale la logistica dell'hotel, trovare quindi una stanza che si accomoda per evitare tutti quei possibili spostamenti all'interno della città o comunque ridurli al minimo. Una buona scelta potrebbe essere quella di alloggiare vicino alla piana di Giza. Potete prenotare come sempre attraverso i classici siti tipo Booking che vi permettono di leggere anche le recensioni degli utenti. Se decidete di optare per la crociera sul Nilo ovviamente le 3-4 notti saranno già incluse e non dovrete considerare di prenotare un hotel. In Egitto i pasti principali sono la colazione e il pranzo che generalmente viene consumato a metà pomeriggio. La cena invece è il pasto più leggero. Le fave sono probabilmente l'alimento più consumato del paese con il quale si fanno alcuni piatti tipici arabi che solitamente si fanno con i ceci e vengono sostituiti dalle fave. Il koshari è forse il piatto tipico più conosciuto. Si tratta di un piatto unico con pasta, riso, alcune salse, legumi, cipolla caramellata e spezie. Da buon paese islamico è un po' difficile trovare il maiale è più facile mangiare pollo, manzo, vitello e agnello. Sono particolarmente apprezzate anche le interiora che vengono solitamente mangiate come street food dentro il loro tipico pane arabo. Infine l'alcol. Potete trovare delle discrete bier egiziane e anche qualche buon vino. Bene, questi erano i miei consigli per organizzare il vostro viaggio in Egitto. Come sempre vi ricordo che viaggiare è affascinante non solo per i luoghi che si visitano ma anche per le persone incontrate lungo il percorso. E l'Egitto in questo senso è una terra che non vi lascerà indifferenti. E sono sicuro che vi catturerà così come fece con me quando ero piccolo. Se avete ulteriori consigli da condividere con chi è curioso di intraprendere per la prima volta un viaggio in Egitto o chi come me ci vuole ritornare a tutti i costi vi invito a creare un'area di discussione qui sotto per arricchire sempre di più queste mini guide di viaggio. Per non perdervi altri video come questi vi invito ad iscrivervi al canale YouTube, ad attivare le notifiche, vi prego di lasciare un like e un commento a questo video. Per oggi è tutto ci vediamo nel prossimo video.